Entrato in polizia nel 1989, dopo 30 anni di onorata carriera sul territorio milanese, ricoprendo molteplici ruoli, tra cui quello di questore di Monza e Brianza dall'aprile 2019, Michele Davide Sinigaglia è il nuovo questore di Cremona, subentrando al posto della collega Carla Melloni, trasferita a Roma per ricoprire un incarico di assoluto prestigio. La dottoressa Melloni ha svolto un grande lavoro, io colgo l'occasione per ringraziarla, ho trovato una questura molto ben organizzata, con uno staff di collaboratori di primissimo ordine, proseguirò su quella strada lì, cercando ovviamente di dare il mio contributo sulla base di quelle che sono le mie esperienze maturate in occasione dei precedenti incarichi. Voglio però sottolineare quanto sia molto gratificato da questo incarico che ho ricevuto e per questo ringrazio davvero il vertice della Polizia di Stato per questa opportunità che mi ha dato. Io ritengo che si debba lavorare molto sul piano della prevenzione, quindi cercherò di mettere a fuoco quelle che sono le attuali strategie in tema di controllo del territorio, ma anche di coordinamento con le altre forze di Polizia. Credo che questo sia un obiettivo prioritario da raggiungere, quindi credo molto nel coordinamento, incontrerò a breve i colleghi, i comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per condividere le strategie migliori, ovviamente sulla base delle direttive di carattere generale impartite dal prefetto. Credo anche molto nel ruolo delle polizie locali, quindi lavorerò anche su quel fronte perché le polizie locali devono far parte a tutti gli effetti del contesto delle forze dell'ordine, devono essere perfettamente integrate in questo contesto.